Il Partito Democratico, con il suo segretario provinciale, contesta con parole di insopportabile arroganza la mia presenza a Prado per la presentazione di un libro sui temi da cui da tempo mi batto con gli amici del popolo, della famiglia, difesa della vita, dei nascituri, della maternità e della famiglia. È un libro contro l'aborto, è un testo che ha già scatenato contestazioni fino ad oggi della sinistra, chiamiamola così, antagonista ed anarchica che a Venezia Mestre si è resa protagonista di una serie di incidenti che credevamo isolati e intollerabili. Invece le parole del segretario del PD di Prato fanno suonare ancora una volta come la sinistra anche istituzionale, anche di Ellie Schlein, sia la solita sinistra intollerante, incapace di comprendere che esistono anche idee diverse sui temi delicati della vita e della famiglia, sui temi etici.